L'ANAS, Società del Polo Infrastrutture e Gruppo Ferrovie Italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva dell'esecuzione dei lavori relativa all'otto gagliato soverato della trasversale delle serre. Il completamento della nuova infrastruttura fa parte dell'elenco delle opere oggetto di commissariamento da parte del Governo nazionale. L'intera opera prevede un costo complessivo di 521 milioni di euro, già finanziati interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La trasversale delle serre è una nuova opera fondamentale per il territorio. Ha commentato Aldo Isi, rappresenta un importante itinerario di collegamento tra i versanti ionico e tirrenico e attraverserà la parte centrale della Calabria con una notevole riduzione dei tempi di percorrenza e l'incremento degli standard di sicurezza stradale. Sono stati inoltre perfezionati gli itere autorizzativi completati e approvate le progettazioni, acquisita la completa copertura finanziaria e pubblicati bandi per gli affidamenti e in fase di esecuzione l'intervento relativo all'otto del superamento del colle dello Scornari. Gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla sinergia e cooperazione istituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture, il commissario straordinario Francesco Caporaso e il presidente della Giunta regionale della Calabria Roberto Chiuto, oltre all'operato delle strutture ANAS e dei dipartimenti regionali. Grazie. Grazie. Grazie.